Questa stanza è stata, diciamo, costruita, è stata fatta nel 1905, è stata rivisitata dall'architetto Mazzoni nel 1950, ed è l'ufficio del campo stazione di Roma Terna. È ora l'office della stazione, del direttore della stazione, la stazione di Roma Terna. E infatti qui con due grandi associazioni che lavorano nelle stazioni italiane. La fondazione e l'associazione Centro Astalli. E poi la Comunità di Sant'Ecidio, che è una delle più grandi organizzazioni qui in Italia, ma molto benvenuti anche nel mondo, perché hanno una forte attività diplomatica e attività internazionale. Avere questi partner all'interno della rete europea è molto importante, perché è un allargamento significativo della nostra rete. E pregherei magari adesso i rappresentanti dire due parole che spiegano le attività che è un gruppo. E io invito i rappresentanti della comunità di Sant'Ecidio e dell'associazione Centro Astalli per presentare i loro attività a tutti. Buonasera, sono Francesca Zucari. Mi piacere di incontrarti. Siamo lavorati di fare parte di questa rete che ormai è presente già da gli anni. L'attività dei Gesuini a Roma, in favore dei rifugiati, inizia in pocata con la distribuzione di Panina. ma dall'ottanta ad oggi, inizia il nostro taglio, è un giorno di accoglienza, dove le persone che sono avvenuti apporte, riconosciute nella loro comunità e accompagnate nel rispetto dei comuni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.